Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema della rete mancante su Windows ovviamente come puoi vedere io non posso connettermi a internet perché c'è solamente il simbolo di questo cerchio e un altro cerchio dentro con una linea che non è possibile connettersi a internet quindi in questo caso andremo a fare una diagnostica quindi una verifica per vedere se è un problema fisico nostro del computer oppure direttamente di Windows 10 oppure Windows 11 quindi ovviamente in questo tutorial vi spiego vari passaggi su come risolvere questo problema quindi iniziando prima ad andare su cmd quindi eseguire il prompt dei comandi come amministratore e scrivere direttamente quindi andremo a fare la nostra diagnostica quindi andate a copiare il ping che vi ho lasciato in descrizione ping 127.1.1.1 e premere invio esecuzione di ping farà così la sua diagnostica e vedere se dobbiamo risolvere qualche problema direttamente come ho detto su Windows oppure direttamente risolvere il problema sullo stato fisico del computer quindi una volta fatto chiudiamo un attimo la diagnostica e andiamo direttamente sul pannello di controllo di Windows quindi pannello di controllo vai su rete e internet opzioni internet vai su impostazioni avanzate e quello che devi fare è ripristinare tutte le impostazioni avanzate e ripristini così le impostazioni chiudi qua e passiamo al terzo passaggio il terzo passaggio è quello di andare sui servizi quindi servizi scendere fino a giù fino a trovare la configurazione automatica VLAN ci clicchi su propriamente a me internet dice che funziona è in esecuzione quindi se a voi è su avvia qui per esempio avvio potete cliccarlo cliccateci su avvia e sul tipo di avvio mettete automatico oppure fai direttamente interrompi se ti fa interrompere questo processo fai avvia avvia così questa configurazione fai automatico e fai applica e fai ok poi come quarto passaggio è quello di abilitare la rete su network connection le schede di rete quindi è quello di andare su impostazioni di rete e internet e qui ci saranno tutte le nostre reti ovviamente se non funziona e sono disabilitate tu devi abilitare queste reti ed eccole qua io ovviamente ho la mia wifi tip ring wireless npc express adattatore questo qua è sulle impostazioni di windows 11 quindi tu fai su abilità e abiliterai così la tua connessione rete e internet oppure lo fai direttamente su gestione dispositivi qui sopra se c'è una freccia in giù freccia nera in giù nel pallino bianco vuol dire che è disabilitata la rete quindi è un problema di windows 10 o windows 11 quindi ci clicchi sopra e fai abilità il dispositivo ho abilitato così il mio realtech pci questo è per il cavo lan oppure abiliti la tua connessione internet come puoi vedere è tornata la mia rete internet questo qua è il cavo lan e per la rete internet la stessa cosa abilita il dispositivo quindi gestione dispositivi e aggiornare la rete su pc aggiornare la rete se non dovesse funzionare ci clicchi sopra e fai aggiornare driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer e scegli quale di questi ti può servire e aggiornare quindi tip link wireless mpc express adattatore microsoft oppure la mia tecnologia tip link io uso questa e faccio avanti installerà così il driver per la mia rete ok ha completato l'installazione chiudiamo lo faccio anche su realtech quindi aggiorno driver cerco il driver nel computer e faccio la stessa cosa anche su questo ovviamente qui ho un sacco di modelli da installare su pc e io installo questo qua realtech e faccio avanti e aggiorno e installo il mio driver chiudo qua poi andiamo direttamente sul ripristino della rete il ripristino della rete basta che scrivi qua sopra il ripristino della rete ovviamente prima di fare questo procedimento ti consiglio prima di guardare la guida perché poi non potrai più vedere il video su youtube quindi dovrai ripristinare la tua rete resetti proprio la tua rete e poi andremo a fare vari procedimenti sul cmd di nuovo quindi sempre qua sopra quindi guarda bene cosa faccio in descrizione ti ho lasciato questi due comandi da inserire quindi fai ripristino cmd prompt dei comandi e vado a inserire net winsock reset faccio copia faccio ctrl v e faccio invio quindi questo qua bisogna seguirlo come amministratore quindi vai su cmd e segui come amministratore e facciamo così faccio copia e incollo il comando completata e poi dopo scrivi net int ip reset spazio reset log punto txt e facciamo invio e facciamo invio e facciamo invio e impostazioni di rete completata una rete qua non è stata fatta però il resto è andato più che bene e chiudi qua ovviamente come ultimi passaggi è quello di scaricare il driver per la tua scheda di rete ovviamente per vedere come si scarica questo driver se tu vai su gestione dispositivi e vai a trovare così la tua scheda di rete ovviamente questa è la mia scheda di rete è un adattatore che ho inserito nel mio pc fisso quindi questa è la mia rete e basta questa qua vado sulla proprietà della rete vado su dettagli e vado a copiare così questo nome ovviamente una volta copiato questo nome mi basta andare su chrome una volta risolto tutto questo cioè una volta fatto tutto questo procedimento e quando si è risolto così l'errore della connessione ti consiglio di aggiornare la scheda di rete con un pacchetto driver quindi vai a incollare il tuo nome e scrivi accanto driver ovviamente questa è la mia scheda di rete come potete vedere questa è la mia scheda di rete vado su supporto e vado a scaricare così il driver lo scarico e poi lo installo e aggiorno così tutta la mia scheda di rete per non avere più problemi dopo e una volta fatto riavvi così il tuo sistema operativo ovviamente non vi lascio nessun link sotto al video perché questo qua è il link della mia scheda di rete quindi tu dovresti trovare la tua scheda di rete perché io non so come si chiama la tua scheda di rete come si chiama la tua rete non lo so quindi devi trovarla e cercare così il tuo driver e scaricarlo quindi una volta fatto andiamo direttamente su configurazione di sistema vai su servizi e abiliti tutti questi servizi se non dovesse funzionare nascondi tutti i servizi microsoft e fai ok poi su risoluzione problemi impostazione risoluzioni problemi ci clicchi sopra altri strumenti di risoluzione dei problemi rete e internet farà così la diagnostica per vedere se ci sono problemi sei connesso a internet non sono stati rilevati problemi con la rete quindi controlla la connessione del cavo ethernet riavvia il modem, il router o il commutatore riavvia il pc serve ancora aiuto? quindi se questo video ti è stato utilissimo per altri problemi commenta sotto al video ragazzi iscrivetevi lasciate like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao